Siamo a Bologna nella mansarda di Paolo De Castro, siamo in questo angolino caldo e chiediamo al nostro Paolo di dirci qualche cosa rivolta a chi? Alle famiglie italiane. Beh sì, famiglie agli agricoltori, all'agroalimentare, a tutto un mondo che segue questo settore con apprezzione perché sono stati mesi difficili, abbiamo appena trascorso un anno, certamente non da ricordare tra i migliori come anno per il reddito degli agricoltori, però le notizie che vengono sono positive, quindi inizieremo un anno 2011 con una tendenza, una crescita del reddito, queste sono le aspettative che vengono dai dati dei mercati e quindi io penso che possiamo augurare a tutti gli agricoltori italiani, e tutto l'agroalimentare italiano, un buon Natale ma soprattutto un felice anno nuovo che porti quelle tranquillità, quella sicurezza, quelle certezze di reddito che da tanto tempo aspettano. Vogliamo anche dire qualcosa ai nostri giovani? Beh, certi giovani sono la speranza per il nostro settore agroalimentare, noi abbiamo un problema di senilizzazione, cioè di aziende molto condotte da imprenditori molto anziani, che è la classifica peggiore dell'Europa, l'Italia ha moltissimi agricoltori anziani, per cui dobbiamo fare di tutto per impegnarci ad attirare i giovani in questo settore, i giovani sono la speranza, le aziende condotte da giovani sono quelle che rendono di più, sono quelle che sono più vitali, più capaci di innovare il settore, più capaci di conquistare nuovi mercati, e noi viviamo oggi in un mondo globale, un mondo sempre più difficile, un mondo più competitivo, che richiede proprio innovazione, tecnologie, i giovani in questo possono aiutarci, possono aiutare a rimettere il settore agroalimentare italiano nel successo del mondo, oggi noi abbiamo un'attenzione al Made in Italy, abbiamo un'attenzione ai nostri prodotti in tutto il mondo, abbiamo bisogno però di conquistarli quei mercati, il fatto che apprezzino i nostri prodotti, però bisogna essere anche capaci di portarli, quindi ci vuole organizzazione commerciale, ci vuole logistica, ci vuole un po' di spirito di lavorare insieme, ecco essere un po' meno individualisti e cercare di mettere assieme le forze per conquistare queste opportunità che il mondo ci dà e che dobbiamo essere capaci di prenderle al volo. E le figure specifiche che saranno necessarie nell'agricoltura, quali saranno? A breve, a medio termine? Ma c'è sempre più bisogno di specializzazione, c'è sempre più bisogno di capacità di seguire il mercato, di conoscere il mercato, non si può più oggi fare l'agricoltore come lo facevano i nostri padri, i nostri nonni, all'epoca bastava produrre un buon prodotto e il lavoro era finito, dopo ci pensava la cooperativa, ci pensava il mercato ad assorbire, oggi non è più così, fare un ottimo prodotto, un prodotto di alta qualità, in realtà siamo solo al 50% del nostro lavoro, bisogna che acquisiamo le professionalità e le capacità commerciali per valorizzare questo nostro prodotto, per valorizzare queste eccellenze del settore agroalimentare di cui tanto siamo orgogliosi e di cui tanto ci vantiamo, ma per poterlo fare abbiamo bisogno di professionalità nuove, ecco per cui io direi più attenzione alla conoscenza dei mercati, più attenzione all'innovazione nella commercializzazione, formule organizzative commerciali, consorsi, strumenti che riescano ad avvicinare il prodotto al consumatore, ecco questa è un po' la grande sfida, riuscire ad avere la capacità di trasformare questi prodotti alimentari, questi saperi, questi sapori straordinari del made in Italy in reddito e per farlo abbiamo bisogno di venderli bene a un prezzo sufficiente che riesca a compensare le fatiche e per questo c'è bisogno di tanta intelligenza, c'è bisogno di tanta capacità, di professionalità e quindi per questo noi ci auguriamo che i giovani e le nuove professionalità apportino questa conoscenza, questo settore e che riescano a superare le difficoltà. Quindi le imprese è giusto che si aspettino qualche cosa dagli enti, dalle istituzioni, ma forse è il momento di dire anche cosa posso fare io per tutti gli altri. Questo è molto importante perché certamente le istituzioni sono importanti e certamente dobbiamo fare in modo che le istituzioni aiutino le imprese in questo processo, però naturalmente è una sfida che parte dall'impresa, che parte dall'imprenditore, che parte dal sistema delle rappresentanze, che parte dal sistema produttivo, che deve avere la capacità di trovare al suo interno le forze anche per fare questi passi avanti. Certo, accompagnandoli con questa innovazione l'Europa ci dà una grossa mano, un quarto del reddito degli agricoltori italiani è sostenuto da aiuti europei e questo sicuramente è un fatto importante, non dobbiamo perderlo, ma dobbiamo però avere anche l'orgoglio di fare gli imprenditori, l'orgoglio di riuscire a trasformare questa ricchezza in opportunità di sviluppo, di crescita, di occupazione, ciò di cui c'è bisogno nei nostri territori e l'Italia è ricchissima di queste eccellenze. Ecco, dobbiamo impegnarci di più a guardare con uno spirito cooperativo, uno spirito tutti insieme, perché le grandi battaglie del mercato di oggi si vincono solo se si è organizzati, se si è aggregati. Quindi a questo punto non possiamo fare altro che fare degli auguri con bollicine italiane? Bollicine italiane e auguri davvero di cuore a tutto il mondo agroalimentare italiano, in bocca al lupo per un 2011 che possa essere un 2011 ricco di soddisfazioni e soprattutto rimbocchiamoci le maniche perché le opportunità il mercato ce le darà davvero. In mancanza del calice facciamoci 5 minuti.